Milano svanora da ricordare per l'attore comico Massimo Boldi, 77 anni, che era bloccato venerdì sera con la sua auto sui binari del tram, bloccando la circolazione del numero 5. Due momenti della disavventura di Massimo Boldi con l'auto forse un momento di disattenzione, la forte pioggia che è caduta su Milano, l'oscurità. Il fatto è che l'attore ha finito con il suo sur sulla carreggiata destinata solo ai tram indiale Regina Giovanna, nella zona di Buenos Aires.esci di più, perché nel frattempo le ruote anteriori si erano infantanate nel fango creato dalla pioggia. Mentre cercavano di capire come spostare macchina, alcuni passanti per mano hanno preso la situazione in mano tre giovani hanno spinto macchina mentre Boldi e Gassel, dopo diversi tentativi, riuscirono a spingerla fuori dai binari. Alcuni hanno anche ripreso la scena in vari video e foto che sono finiti sui social media. Con il selfie finale con Boldi sorridente.